Auto di ieri Carrozzeria Orange Thailandia A Bangkok lo scorso 10 giugno per il match di debutto in One Championship in molti si sono chiesti da dove fosse uscita Martín Micheletto Diciamo che è un motivo di orgoglio per me Con la sua vittoria nel match più difficile della sua carriera la cinquantesima degli oltre 60 match disputati Martín si guadagna l'ingresso nella promozione più importante dopo UFC I titoli che ha sono tantissimi come nella Rose ci sono più titoli nel match Il segreto del suo successo, oltre che nel suo talento è il metodo del suo allenatore, Manuel Beta, fighter anche lui Io ritengo di valere di più come insegnante che come atleta Il metodo lo si vede non tanto sul singolo quanto sul gruppo Il gruppo funziona, i nostri risultati parlano chiaro